No, 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 mi ho tolto questo patto, che parenti in casa mia non viene voglio. Oh, no, mi vieni a battere a porto i miei parenti a domandare qualcosa. Non hai bisogno di voi, signor. Sono insieme. In caso è tanto che ne vado a trovarmi ancora mai pronti, eh? Non fossimo dei taggianti, non venissimo dei barai. Voi, sei un'amo civile, sei un taggianto, non batti i miei. Avevo ancora finito, anche io non voglio fare i miei parenti. Non potevi vedermi di voi, ma cosa mi hai fatto? Non ne ho fatto niente, io voglio bene, ma sapete che in casa mia non ho visto che mi sono. Stasorte di cose non mi avete impedito. Tutto quel che non mi piace ve lo posso e ve lo voglio impedire. Ma cosa? Gaveo? Costa tutto. No, io voglio. Ma per cosa? Per cossa o per gamba non vuoi nessuno. Guardi che sesti, cosa voglio che dica a quel punto? Non sapete bene il mio temperamento, in casa mia voglio la mia libertà. E il che in frigo mi dava io me ne godo? Niente, ma non voglio nessuno. E perchè non lo devi chiamare la vostra camera? Oh Bea, ma che voglio stare qua. Ah, in verità che sei caro. Avevo mandato la spesa. Si ora no. Non sei Disney ancora. Si ora no. Non sei Disney. Si ora no. Eh, mancherà anche questa. Che adesso incontri anche con Disney. Sapete che le sente voi? Sono mio strambo. Sono mio da loco. Ma tu? Perché non sei Disney? No. Perché avevo andare a Disney fuori da casa. Si? E lo dice? Con questa buona grazia. Ma sei tu, patrona, che mette il venire suzo al mio male? Caro mio compadino, dove è il naturale che dei volte ti abbia? Ma non ho come se io è il mio naturale. Allora, Donca, quello è come sei. Cosa fai a queste scende? Che buona grazie a questo. Dove andi a fare oggi? Venirei conmi. Ma dove? Dove che venneranno a me? Per cosa non volevo che lo sappiate? Cosa importa che lo sappiate? Cos'è con il vostro marito? Non c'è pensare altro no? Ah, in verità che mi pare malto, bisogna che sappia dove sa andare, come vuoi da vestire, che senti e che sei, se che sei soggessione, non voglio andare per fattare. No, 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 dove che vado con me sei sicura che non che sei soggessione? Con chi andiamo? Sei un sorda, ciao, venire con me. Allora sei molto curiosa, sai? Sei curiosa, sei curiosa. Allora sei, senza sapere dove. La patrona sì. Ah, ma è il mio nome, se bene. E voi, po' areta, resterei in casa senza di sbagliare. Ah, mi andrà da mio cugnato Maurizio. Signor Maurizio, vostro cugnato andrà a di stare dove che devo andare. Ma dove? Ma sei proprio così, curiosa, curiosa di sapere dove che devo andare. Vieni con me che ho salvato.